Partiamo dal fatto che io non sapevo nulla di teatro, non sapevo nulla del mestiere dell'attrice, non avevo frequentato, non dico teatri neanche cinema, perché ero negli studi musicali, frequentavo ancora il conservatorio a Milano e non avevo nessuna idea di fare l'attrice. Poi faccende familiari hanno creato un cortocircuito per cui a un certo punto mi sono chiesta che fare e avevo chiuso con il diploma in conservatorio e ho incontrato per strada Streler, il suo nome, in una bando, bando per una nuova scuola, di cui non sapevo assolutamente nulla, per attrice attori e non so per quale ragione ho preso in considerazione la cosa, forse proprio perché non sapevo veramente in quel momento dove andare e quindi cercavo una strada. Sono iscritta e è cominciato questo percorso, durato un anno, in cui ci sono stati tre appuntamenti di selezione e dopo il primo incredibilmente il secondo, dopo il secondo incredibilmente il terzo e l'ultimo. L'emozione è arrivata quando, per avvisarmi di presentarmi per la terza e l'ultima selezione, c'era la firma di Streler, perché Streler sicuramente anche per una ragazza milanese musicista e che non aveva nessuna consuetudine con il teatro, con la scena, era comunque una figura leggendaria. Era già, non so esattamente quanti anni avessi, ma era già un grande vecchio con la sua chioma bianca, lo era anche per me, pur sapendo quasi nulla. La mia preparazione è stata ridicola perché mi sono preparata da sola, da grande lettrice, un po' onnivora e quindi scegliendo per monologo dialogo, poesia. La canzone forse è stata la cosa più semplice perché era più vicina a quello che io avevo già frequentato. E effettivamente mi sono buttata nella piscina senza saper nuotare e credo che, cioè, spero che il mio provino non venga visto mai da nessuno che venga bruciato perché sicuramente è qualcosa che attualmente non mi rappresenta. Però è stato il mio incontro, il mio incontro con il teatro, capelli lunghi fino alle ginocchia, una voce che non si conosceva e quindi una voce sperduta in questo spazio magico del teatro studio. Era tutto magico. Ricordo che appena entrata per queste prove di selezione ho sentito un fervore, una brillantezza, una passione che mi erano ignote, non perché nel mio percorso di studi questo fosse mancato, però era uno studio molto più solitario quello del pianista, del musicista. E quindi questo lavoro di gruppo, questo stare insieme, mi ha subito dato una scarica, una scarica di adrenalina, di energia e di stupore, ecco, grande stupore. E mi sono nutrita dell'energia dei miei compagni, delle mie compagne che vivevano con me questa grande emozione di presentarsi poi a un'ultima selezione con attori, con registi e con Giorgio Ostreller. C'era anche un pianoforte per la canzone. Ho un ricordo di un batticuore che non è mai finito e però ho sentito per la prima volta che lì stavo bene. Malgrado tutto, malgrado la totale sensazione di inadeguatezza, sentivo che lì stavo bene e che poteva essere una mia casa. E poi è arrivata la scuola e quindi questi tre anni di lavoro, l'ho già detto varie volte, per me la scuola insomma non è stato, a contrario dei miei compagni, non è stato una... cioè non tornerai a fare la scuola. Non l'ho amata. Non l'ho amata, malgrado io sappia di aver goduto di una bellezza, di un privilegio assoluti. Ma ho sentito la costrizione, ho sentito anche la gerarchia. Mi ha pesato, mi sono sentita a disagio e facevo fatica anche a esprimerlo. Però ero un corpo unico con i miei compagni e quella è stata la grande forza e la grande gioia di questi tre anni. Se devo dire, la cosa più importante per me è stata la condivisione con i miei compagni. E poi certo, le poche lezioni che ha fatto Giorgio Strehler, che ci ha dedicato, ce le ha dedicate veramente con tutto il cuore. In particolare la lettura dei Willemmeister che ci ha fatto. Io sento ancora l'emozione di quella lettura perché era una lettura in cui vedevi ogni personaggio, sentivi il profumo di quei paesaggi, sentivi i movimenti più sottili di ogni figura. Era uno sguardo d'autore, uno sguardo d'artista assoluto. Ecco, lì sì, veramente la grande magia, la grande magia. Eravamo immersi in questa grande magia. Uscita dalla scuola ero pronta. Ero pronta anche come reazione. Ero pronta per fare a modo mio. E credo quindi di dovere molto a questa scuola. Giorgio Strehler, lo ricordo anche molto precisamente, a parte le lunghe prove del Faust, in cui faceva uno dei tre angiolotti. L'ho sistemata con queste ali pesantissime, per ore e ore, aspettare che facesse le luci. Io, Nicoletta e Marika, roteavamo su queste incredibilmente pesanti ali, su una specie di rullo, che però dovevamo gestire noi autonomamente. Era difficile, era complesso, ed era l'immagine iniziale del Faust veramente potente. E sono state la nostra palestra. Noi chiudevamo con la scuola e scendevamo e cominciavamo le prove per il Faust. Ho un ricordo ben preciso di quelle lunghe prove dello spettacolo, che è stato insomma il primo nostro spettacolo, quando ancora facevamo scuola, quindi come da lievi attori. E poi ho un ricordo molto emozionante dell'arlecchino dei giovani, in cui ero una delle beatrici, e quella mi è piaciuta tantissimo. La grazia di quel lavoro era intatta, era intatta anche in un gioco così di gruppo, con così tanti giovani che si alternavano nei ruoli. E ricordo che in quel periodo gli chiesi di poter fare un concerto al Teatro Studio, anzi due concerti. Un concerto con il Piero Luner di Schoenberg, a cui lavoravo da tempo con un gruppo musicale, addirittura senza direttore, avevamo lavorato, ho studiato moltissimo. E un concerto anche con musica di Fiorenzo Carti, che nel frattempo mi aveva scritto una cosa. L'essere musicista è stata la cosa che mi ha fatto entrare a scuola, nel senso che è stata la cosa più preziosa che ha fatto dire a Giorgio Streller e credo anche alle altre persone che avevo una lingua che potevo riuscire a evolvere, a esprimere. E quindi questo lavoro in musica che continuava mi ha fatto chiedere a Giorgio Streller di poter avere il teatro per questi due concerti e lui me l'ha dato, me l'ha dato. E ricordo che era molto contento, ma perché? Perché lui amava profondamente la musica. In particolare Schoenberg lo conosceva benissimo, lo ha utilizzato spesso, ha lavorato tanto in musica con una perfezione, con un mitore. Noi abbiamo anche avuto la possibilità di seguire le prove del Don Giovanni alla scala e sono state prove indimenticabili. Ecco, se io devo ricordare, a parte il lavoro insieme, così, delle fiammate, io penso al suo lavoro sulle luci, che poi mi è rimasto dentro, mi è rimasto dentro come fondativo. Cioè, lui, attraverso le luci, che era la prima cosa a cui pensava e che disegnava per cominciare lo spettacolo, lui disegnava il suo mondo. Ed era... Ecco, se mi rendo conto che continuo ad usare la parola magico, però sì, era magico. Era magico vedere quanto quest'uomo, con questa voce chioccia, in questi modi anche opinabili, che andavano dall'urlo alla carezza, riuscisse a esprimere un mondo di poesia concreta, parlante, tangibile. Credo che ci avessero scelto, un po' come i soliti sospetti, per ruoli, rifacendosi a una tradizione teatrale antica, per cui primo attore, prima attrice, caratterista, eccetera, eccetera. Io non so bene a quale ruolo potessi essere ascritta, non l'ho mai capito, non mi sono neanche mai capita in quel periodo, forse era un periodo anche difficile per me, della mia vita, un periodo difficile, per cui ho vissuto tutto in maniera problematica. Beh, era spiritoso, era molto spiritoso. Era anche paterno, paterno, rude paterno, divertente. E poi era in un'età della sua vita in cui aveva piacere a raccontarsi, credo. Piacere a raccontarsi, piacere anche, ricordo che ci regalò subito un libro di Ripellino, come viatico. Era, sì, era un maestro molto esigente, terrorizzante, perché, insomma, era anche terrorizzante, però molto affascinante. Sì, eravamo tutti innamorati di lui, innamorati, innamorati di lui. Era difficile, era difficile entrare in rapporto. quando poi ho letto, a molti anni di distanza, anche i suoi turbamenti, delle sue, delle sue rotture, di un pensiero anche legato a un'infanzia, credo di aver, di aver a ritroso, visto meglio anche certi suoi movimenti a scuola, cioè un certo suo modo di guardare, di gestire, di essere così ruento. da timida credo di aver colto la sua timidezza e la sua difficoltà di mettersi in rapporto col mondo, perché poi molto spesso capita che registi, artisti, registi, artiste hanno difficoltà poi nella vita di tutti i giorni a mettersi in una relazione sana o quantomeno diretta. Ecco, hanno sempre bisogno o di avere una corte, o di avere un cuscinetto, oppure crearsi un isolamento totale per riuscire a proteggersi e insomma ognuno ha le sue pratiche e anche lui aveva le sue. Però l'ho visto meglio, l'ho capito e gli sono grata. E poi c'era appunto questa meravigliosa biblioteca accessibile a tutti noi, dove potevamo passare le ore, i giorni in cerca. Eravamo immersi nella bellezza. Poi anche c'è anche cosa molto divertente, Lidia Stix che è stato un incontro formidabile della mia vita. L'ho amata moltissimo, la più folle dell'insegnante di un canto e gli incontri, gli incontri con attori, artisti. Ricordo che una volta stavo suonando il pianoforte in una pausa nella sala dove facevamo lavoro e improvvisamente è entrato un meraviglioso signore con la testa tutta bianca era Orazio Costa che aveva sbagliato porta. Doveva entrare in teatro, era salito al secondo piano e si era perso. Era arrivato lì forse perché sentiva suonare era arrivato. Ricordo spettacoli che potevamo vedere tutte le sere e e girava appunto il teatro d'Europa e non solo e quindi attori da tutta Europa e da tutto il mondo che arrivavano attori di cinema e di teatro. L'arricchino del gemene era il nostro saggio era una sorta di nuova nascita di uno spettacolo in cui lui si è divertito moltissimo io sentivo proprio che era si divertiva anche perché poi effettivamente alcuni dei miei compagni che continuano a farlo adesso sono cresciuti nell'arlecchino sono anche invecchiati nell'arlecchino e si sono divertiti moltissimo e hanno ricreato e rifondato dei personaggi che c'è stato proprio un passaggio di testimone come proprio una vecchia scuola italiana ma io ricordo la magia di quei costumi delle prove costumi e ricordo la meraviglia del suggeritore vogliamo parlare del suggeritore insomma ci sono tanti elementi che hanno creato proprio famiglia e poi e poi io ricordo di tanti giovani tecnici che crescevano con noi e che adesso sono alla direzione di tutte le parti insomma e quindi è bello una bella insomma una famiglia che cresce che mette radici molto profonde è una realtà unica quella del piccolo e con l'arlecchino dei giovani noi non solo abbiamo fatto saggio ma abbiamo girato l'Europa abbiamo fatto una sorta di tournée magica anche quella perché insomma siamo andati a Parigi siamo andati a Düsseldorf e a Ginevra è stata una bellissima tournée di Joe gioiosissima eravamo tutti insieme facendo un spettacolo come quello indimenticabile indimenticabile Strähler era la figura centrale della grande regia europea ed è uomo del novecento assolutamente uomo del novecento e figura di riferimento della regia novecentesca la regia del 2000 la regia del presente è una regia che ha abbandonato e certe architetture creative la cosiddetta eredità di Strähler era un'eredità che poi si è trasformata è diventata altro però c'è anche da dire che senza quella zampata senza quella potenza espressiva e quella e quella volontà creativa e politica che che ha determinato la la creazione del piccolo come luogo non solo fisico ma luogo della mente luogo culturale profondo italiano e non solo italiano senza questo probabilmente il nostro oggi non sarebbe così non avrebbe la possibilità di evolversi è storia che poi si permette alle generazioni successive di evolversi non avrei mai detto che poi per me sarebbe partito anche a un certo punto dell'esperienza il desiderio di mettermi dall'altra parte come regista però sicuramente se poi devo pensare a come ho cercato di lavorare sicuramente sento che certe immagini e certe e certi certe ossessioni e un'idea anche di perfezione formale potente forse si è si è tradotta in me in un desiderio in un certo desiderio di fare quindi sì forse ecco più che da un punto di vista d'attrice da un punto di vista di regista ecco streller era un uomo di grande cultura e un grandissimo lettore e quindi ha acceso una curiosità ancora più io insomma ho sempre ho sempre avuto una grande curiosità e un amore per la lettura sconfinato però credo che gli anni della scuola siano stati degli anni in cui ho dato fondo a tutte le letture possibili e immaginabili